A parte il fatto che io sono ridicolo con questo costume da Indominus Rex, eh, siamo seri, cioè che è sta merda, ma, ma, che, cioè, che, che, cos'è, cos'è sto schifo, va, va bene, l'Indominus è un figo della madonna, che, che fa boiate, e, e io mi ritrovo con questo costume di merda, ciao, amici e amiche, come potete vedere sono un salmone, sono un pane di semente un salmone, dai, vedi, c'ho pure la pinna, si vede la pinna, vabbè, sei un po' afflosciata, però, ci sta, Se quello è un salmone, io sono una caraffa, ehi, usa un po' di fantasia, stronzo, va, va bene, ad ogni modo sono un salmone, vedete, è il primo che dice il contrario, lo strangolo, con queste pinne, Comunque, ciao a tutti ragazzi, io sono ancora una volta l'Elettro 16, in questo episodio mi sono travestito da Indominus Rex, perché io sono un bravo bambino, ma, non è tanto perché abbiamo anche, Indovinate un po', abbiamo anche, di nuovo, un'altra volta, ancora una volta, cambiato il mondo, perché quello vecchio, io avevo registrato, stavo registrando un video degli SCP, Indovinate un po', ero morto, ero entrato nella cella del 965, avevo tolto il letto, sperando che entra, che spawnassi in casa, Ero spawnato in un mondo a cazzo della mappa, e non riuscivo più a trovare tutto l'Ambaradam, e invece di perdere il mio tempo prezioso, alla ricerca, del, dello spawn point, che, comunque, non c'era più, cioè, Bobo, Io ero spawnato in un punto a cazzo dei cane, ho preferito, ricreare, un nuovo mondo, quindi, eccoci qua, ancora una volta, in un nuovo mondo, con questo costume idiota, da Indominus Rex, va bene, Io, non so se devo aggiungere altro, mettiamoci l'armatura, che, comunque, si, cioè, se io tolgo il caschetto, beh, non cambia poco un caso, ma, non cambia niente, vabbè, Comunque, in questo mondo, abbiamo un sacco di roba nuova, tra cui, la, la spada, e il piccone robusto, che, in nessun altro mondo ci avevamo, me li sono craftati, ho detto, che cazzo, C'ho, l'armatura, qua, super rinforzata, e non c'ho, la spada e il piccone, ma, devo essere, Bobo, un cretino, intanto, il portale, lo mettiamo, qua, poi, qui, abbiamo, la portal gun, qui, abbiamo, una gabbia, E lì, c'è il suo superstite, che, io, già, lo vedo, tra l'altro, ne ho messo, anche, il feeder, spero, che, non mi muoia, questo animale, da compagnia, Lui, ragazzi, è Terry, il terizinosauro, ed è molto carino, molto puccioso, ah, è cresciuto un pechegno, perché prima aveva 12, 10 HP, adesso ne ha 13, Si, ha questo rifornitore di cibo che gli dà l'erba, e, niente, lui è qua, è carino, lo posso sedere, vedete, adesso abbiamo seduto, Eccolo là, piccolino, Terry, e, vabbè, lui, gira in giro, in sta gabbia, prima avevo messo un diplocaulo, però, moriva, perché, si, Tra l'altro, in questo altro mondo, abbiamo anche una novità, abbiamo l'elicottero, siete contenti, ragazzi, che abbiamo l'elicottero, però, non ci servirà per l'SCP di oggi, Perché, si, l'SCP di oggi è molto vicino di casa, e quindi, è uno spreco usare quello, Tra l'altro, volevo dirvi che questi mari sono infestati, sia dagli squali, ma anche dagli animali marini preistorici, Per esempio, avevo visto uno strano coso, qua c'è uno squalo, ciao squalo, gli squali tecnicamente sono buoni, e, stanno gli squali, Ma, a parte sti scemi, degli squali, ci stavano i pesci carnivori, che non lo so se sono cattivi, là c'è un corallo marino, Boh, qua ne è morto, qua chi è morto? È morto qualcuno, oddio, eccolo qua, questo è un dune cleo, ce l'ha con me, 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 Non uno, ma due, sono dei duncle osteus, lo leggo da so, sono in tre, no stanno, ci sono anche gli squali, ma ce l'hanno con me? Oh, mi sa di sì, no, non lo so in realtà, perché un po' ce l'hanno con me, un po' non ce l'hanno con me, però non c'è, non c'erano solo questi, Cioè, in realtà c'erano soprattutto quelli, però mi sa che c'erano altri dinosauri, Non sono dinosauri, Lì c'era un mosasauro gigante, direi di aver perso fin troppo tempo, possiamo andare nella cela dell'SCP di oggi, che è proprio quella davanti ai nostri occhi, eccola qua, io ero andato dall'altra parte, pensando che fosse da questa parte, invece era qua, Vabbè, però meglio di niente, almeno ce l'abbiamo, eh, è che già tanto, Nel fondo non si vede che stracazzo c'è, ma che cazzo, ma che ci mettono sotto i buchi? Boh, ci buttiamo che è meglio perché non voglio rompermi, ok, ok ragazzi, siamo qua dentro, ce l'ho un po' strana, boh, non si era mai generato in questo modo strano qua, Va bene, qua, è tutto, sì, là c'è uno scherzo, ok, ecco, sono troppo forti, cioè, One shotano ogni cosa la spada robusta, tra l'altro spacca anche, cioè, io devo aggiungere altro, Vabbè, level one, quindi, boh, che SCP è? Entriamo, mangiamo, tra l'altro non so voi, ma, Mmh, sto pavimento è strano, cioè, il muro me lo ricordo un po' più piccolo, qua mi sa che c'è, c'è qualcosa che ostruisce il passaggio, Con questo SCP, 701 di classe Euclid, questo è, questo è uno bello famoso, molto famoso, ben noto, ed è la tragedia del re impiccato, The Undead King's Tragedy, è un SCP che, tra l'altro, mi sembra che ci fosse anche sul computer, non vorrei sbagliarmi, comunque, non so perché ci sono le lampade rosse, perché questi hanno usato la cella del ragno d'ombra, ci sono, tra l'altro sto, vabbè, sta illuminazione non funziona, è inutile. Chi è l'SCP 701? È un'opera teatrale che si chiama La tragedia del re impiccato, e praticamente questa opera teatrale, tecnicamente qua si può entrare perché, cioè, lì c'è il teatro, Aia, ma non mi posso avvicinare, non mi avvicino, non... Se mi avvicino prendo danno, Aia, mi dà aggressione e avvizzimento. Allora, era proprio come me lo aspettavo. Allora, ti spiego perché. SCP-701 è un'opera teatrale che però, se la vedi, chi la guarda, chi assiste a quest'opera teatrale, diciamo che diventa aggressivo con gli altri membri nella sala e quindi si crea proprio una tragedia vera e propria tra la folla. Ma la cosa ancora più strana è che c'è un'entità chiamata SCP-701-1, sì, si chiama così, che è un uomo tipo tutto bendato, che dovrebbe essere un remo, non lo so, ma da quel che so, questo qua fa qualcosa, ma non ho proprio la benché minima idea di cosa. Qua ci sono delle batterie che io non nego e qua c'è Handed King's Tragedy, The Handed King Tragedy, 701-1, che è l'essenza. In realtà, se io uso questo coso, mi spawna tutta la struttura. Non lo conosco alla perfezione perché sto qua da quel che so durante l'opera teatrale succede qualcosa. Io non lo so. Ci sono... È un casino, ragazzi, sto SCP. Se lo volete vedere, voi vedetelo. Ah, no, no. Ho visto male. Se mi avvicino, prendo danno, giusto? No, non più. Posso entra... Vabbè, c'è uno scheletro. Ok, l'ho ucciso. Possiamo entrare... C'è un creeper. C'è anche un creeper, no? Non ci vuole... Perfetto, ragazzi. Abbiamo distrutto... Tra l'altro siamo a livello della... Chi altro? Un altro scheletro. Raga, abbiamo... Perfetto, ragazzi. Abbiamo distrutto la cella dell'SCP. Spero di poterla riparare. Non lo so, ragazzi. Io spero di riparare... Che cos'era? Ah, questa è Ambra. Sì, questa è Ambra. Ragazzi, la prendo perché questa è buona. Fidatevi. Chi altro è? Ma chi... Ma chi... Tammurt? Oh, il prossimo che spawna lo pic... Ah, quello non è... Quello però non è uno scheletro. Quello lo leggo anche cos'è. Quello è The Undead King Tragedy. 701-1. Me lo ricordo molto bene, bello mio. Ho capito, raga, che... Una cosa. Una cosa in particolare ho capito. Se mi avvicino a... Diamogli un nome italiano. Gigi. Ecco. Ah, Giulio. Ecco, Giulio. Che ci sta meglio, Giulio. Prendo i suoi effetti brutti. Comunque, raga, veramente questo... Questo luogo è ben fatto. Cioè, guardate, da tutti... Là ci sono degli strani tubi. Buono. Non vorrei dire... Là ci sono dei tubi di medallo. Comunque, questo costo, raga, ha 2500 di vita. E io non suggerisco di prenderci molto la manica. Ci sono anche qua dei teschi. Perché li ha fatti fuori lui. E qua ci sono anche... Dei... Catanacci. Che non vengono doppati. In realtà sono dei... Come cazzo si chiamano? Che non mi viene il termine. Sono dei cosi che si usano per essere impiccati. Ecco. Usiamo i termini tecnici. Sono dei cosi che si usa... Ahia, bella, adeos me... Ah no, è lui che si avvicina, monellaccio. E allora, approfitterei... Sapete che vi dico? Mentre lui si sposta... Ma tu sei scemo. Allora... Lui si è allontanato? Bravo. Lo proveremo anche a colpire, anche a farci uccidere. Per capire un po' meglio cosa succede. Allora, questo è... Badonna, basta. Qua c'era anche un coso per l'impiccagione. Cioè, veramente. Questo mi sa che faceva parte... Della commedia, là. La tarragedia del reimpiccato. Tra l'altro, quanti quadri non ci stanno? Cioè... Quadri della morte. Lui, ragazzi... Oddio. Ma sbaglio o ha delle caten... No, ha le gambe impiccate... Incatenate. No, si dirige nel palco. Io dovevo... Dovevo vedere quei tubi, però. Ragazzi, voglio fare un esperimento. Voglio provare a colpirlo. Avviciniamoci. Che, tra l'altro, da lontanissimo ci dà i suoi effetti. E scappo, scappo, scappo. Ok. Sono vivo. Il portale io lo metto qua. Ma, raga, questo... È un po'... Un po' un casino. Vederlo e sperimentarlo. Anche perché abbiamo anche distrutto parte di... Sua. Lui è lì. Lui è lì. Io lo vorrei prendere. E spostarlo. Ma sto qua, raga, da tanti... Cioè, da qua. Da qua. Da qua. Lui ha effetto. Mi prendi in giro. Cioè, io da qua. Questo blocco... Cioè, io da... Da qua. Da sto blocco. Non posso più avvicinarmi. Perché mi dà lui effetto. Comunque gli ho tolto una buona parte di vita. Cioè, da... Da 25... Da 250 a 230. In tre colpi gli ho fatto. Potrei anche ucciderlo. No? Vorrei vedere quei tubi, ma... Lui è ancora... Lui è qua vicino. Ok. Spero... Ok. Vediamo un po' questi... Ah, no, no. Non funziona, no? Lo spacco. È un tubo normale, raga. Va bene. È un tubo normale. Allora, io, raga, per sto SCP... Ho un po' un dubbio. Quello come lo port... Ah, eccolo lì. Quello, raga, come lo portiamo? Perché se lo metto in una cella normale... Quello lì ha effetto. La mia opzione... L'opzione sarebbe fargli una gabbia gigantesca. E poi metterlo, tipo, in un punto preciso. Perché sto qua... Oppure l'opzione sarebbe anche... Ricostruire tutto sto delirio. Ma io non lo so se sta cosa è fattibile. Io, ragazzi, mi sa che qua abbiamo visto tutto. Non c'è nulla di che. Dobbiamo anche vedere cosa succede se mi faccio uccidere. Io lo colpisco. Gli tolgo 10 di danno. Se io ti amma... Cioè, tra l'altro lui non interagisce nemmeno. Io gli sto togliendo anche un fottio di vita. E lui mi ucciderà. E sono tranquillamente morto di avvizzimento. Beh, ci può stare. Come sta il mio terri per vedere? Ah! Sta dormendo! Che carino! Guardate che carino. Che carino. Sta dormendo. Beh! Beh, io ragazzi vi direi che per questo video può essere tutto. Lasciate un bel like. Iscrivetevi. E nulla. Da me, Letro 16 è tutto. Ciao! Magari, ragazzi, troviamo il Musasauro. Il prossimo video ve lo faccio vedere. Anche se devo avere paura. Perché quel coso è grande. Tanta paura. Ma poi che fine hanno fatto tutti gli animali preistorci? Boh, c'era il solo il Ducleo... Cosa? Mi sa che se li sono mangiati loro. Mi sa proprio di sì, mi sa. Beh, buonanotte.